Ora, un rato, abbiamo fatto un video di circolazione per la sua agressione contro la mamma di persone che avevano a tenere in Guaranos Costa. Mi servizia che avevo mai riuscito anche con l'alto mano di Guaranos Costa. Mi hanno fatto capire che ho entregato per la parte che avevano in l'Ansrecherche, ma la parte è la sua camina, ovviamente, è la parte strafrechtile, la parte penale. Ma la parte è la parte disciplinare. In Middles c'è un rapport, un rapport, un rapport che è una procedura normale. Ora, qualche amtenare, qualche trascendore usa violenza. E c'è un'investigazione interna, disciplinare, che inizia e inizia, e non solo queda in espera di avere il rapporto qui. Per fare i dettagli e poi un'altra decisione per la sua agressione contro la mamma di Guaranos Costa. Mi servizia che è questa maniera che mi ha informato, è dictero, che è una persona che è legata in libertà, perché è una persona che è legata in libertà, che è una persona che è legata in libertà per il nostro paese. Bisogna questo, c'è una carta che è legata per l'abogato di una persona, non sta in espera di contesto di un abogato qui. Se noi non riceviamo contesto e viene a noi di l'anti, ma comprende che il direttore di Guaranos Costa lo manda a rappellare a sacchi, ma assinare la persona volontariamente per abbandonare la nostra isola. Ovviamente, tutta la maniera che lei ti brinda, per aprire le decisioni, che è una disposizione di tutta il cittadano, non obstante, in quale caso, che è il nostro urgito anche, si non sta di accordo con qualche decisione, si non sta di accordo con qualche optredo, in caso di un abogato di un'organizzazione, sempre per accedere in un'instanza adecuata che lo attende a sacchi.